Presentata a Recanati nella sala del Consiglio Comunale la nuova giunta del neosindaco Emanuele Pepa. Una squadra con cinque assessori di cui due donne, l'avvocato Emanuela Pergolesi all'istruzione e servizi sociali, Sabrina Bertini, bilancio e finanze, vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici e partecipate Roberto Bartomeoli, assessore alla cultura turismo e commercio Ettore Pelati, all'urbanistica, sport e rapporti con i quartieri, l'ingegner Maurizio Paoletti. Un team già operativo, sottolinea il sindaco Pepa. Sì, siamo pronti, determinati e sicuramente la facilitazione che ho avuto per poter individuare la mia squadra che già in parte avevo nella mia testa, una volta avuto il primo esito delle votazioni, sono riuscito a portare l'accomplimento in giro di quattro giorni, per me è stato un ottimo, un grande risultato, il che mi permette di iniziare insieme al gruppo il proseguo del nostro mandato. Quale sarà lo stile di lavoro? Lei ha parlato anche di nomi che verranno poi aggiunti al team per ciascuna delega. Questa è una struttura che ho voluto dare alla mia squadra di giunta perché ho dato loro il mandato di poter individuare quattro persone in team che possono condividere il progetto e soprattutto seguire le tante deleghe che ogni assessore ha in modo più attenzionato e soprattutto con una visione anche alternativa così che possa venire un risultato migliore. Le quattro designazioni dovrebbero avvenire due di loro richiesta e altre due in consenso con il sottoscritto perché vorrei metterci anche qualcosa di mio. Dunque le prime cose che farete già per questa estate a Recanac? Noi seguiamo un po' anche il programma che ci siamo dati. Una priorità era aprire il comune, lo stiamo facendo con tutti gli uffici e noi ci teniamo particolarmente al rapporto che si è instaurato con i dipendenti comunali e anche i sindacati stessi. Parlando di manifestazioni devo dire che l'obiettivo primario è quello di poter continuare lunaria, magari facendolo in modo ridimensionato non con il format che era negli anni scorsi ma purtroppo il tempo è quello che tiranno, noi l'elezione è venuta così tardi che non siamo in grado di fare diversamente. Però sicuramente ci sarà una lunaria, una, dico, un evento importante e anche spero che sia d'impatto nel territorio.